La piscina di Buonabitacolo è tornata ai suoi antichi splendori. Dopo un abbandono durato anni si sono infatti svolte le prime gare ufficiali. Merito della GSM Olimpia che grazie ad un accordo di 40 anni con il comune ha ricostruito la struttura e ora ne gestisce i servizi. A Buonabitacolo si è così tenuta la sesta tappa del campionato regionale di nuoto. In acqua oltre 170 atleti provenienti non solo da tutta la campagna ma anche dalla Sicilia ai quali va aggiunta la partecipazione di atleti della società ospitante. Al termine della gara si è registrato un ottimo piazzamento di alcuni dei nuovi atleti partecipanti della scuderia GSM Olimpia. Luigi Pellegrino ha vinto un argento nei 100 rana e un bronzo nei 100 stile libero. Sara Nicodemo un argento nei 100 rana e Aurora Spenillo un oro nei 50 dorso. Grande soddisfazione per la presidente Francesca Petrosino e per Giuseppe Garone per l'ottimo risultato dell'evento e la rinascita della struttura. Grazie per la visione!